Ben ritrovati amici modellisti anonimi ed eccoci di nuovo qui dopo una pausa forzata ed eccoci a riprendere con le nostre video recensioni dei modelli da Edicola. Ci saranno sorprese, non saranno solo da Edicola. Riprendiamo con la collezione Camion d'Epoca, ed è l'uscita numero 9 e il protagonista è il Fiat 684N del 1970 allestito. Da bisarca per perlaci, ma comunque sempre di proprietà di carrozzerie private. Però prima di osservare il modellino, come sempre, uno sguardo al fascicolo. Il fascicolo lo conosciamo ormai abbastanza bene, in seconda pagina ne troviamo un'altra volta il nostro modellino. È una piccola didascalia che ne riprende alcune caratteristiche, quindi il tipo di uso, il nome bisarca da dove deriva, quindi qualche curiosità comunque simpatica e interessante da conoscere. Poi comincia l'articolo vero e proprio, quindi l'articolo descrive le caratteristiche di questo camion di successo molto molto apprezzato da chi poi lo ha utilizzato e l'articolo è ricco di informazioni, ricco di curiosità. Molto molto tecniche anche, quindi forse indirizzato più verso un'utenza un po' più specifica. Anche in questo caso vengono illustrate le diverse tipologie, configurazioni utilizzabili. Una scheda tecnica non dettagliatissima, ma comunque sempre utile e gradevole. Poi si va avanti con una sezione dedicata alle corriere, agli autobus, che però nascevano sulla stessa meccanica di questi camion. In ultima pagina ancora una volta ritroviamo il nostro modellino con qualche curiosità in più, soprattutto per quanto riguarda i modelli utilizzati in allestimento ACI, quindi nel soccorso stradale. E nel fascicolo, durante l'articolo non so se è scritto anche qui, vengono evidenziate le diverse sequenze, anche cromatiche per quanto riguarda la livrea di questi automezzi, e in particolare quella che abbiamo qui è riferita sicuramente agli anni 80, poiché era proprio in quel momento che i camion adottavano questa colorazione arancione con banda blu, che tagliava in due la carrozzeria. Ma ora è venuto il momento di osservare il nostro modellino. In ultima pagina vi faccio notare che a fianco al codice a bar finalmente c'è l'indicazione uscita numero 9, che sembrerebbe riportare tutto alla normalità, almeno per quanto riguarda la sequenza dell'uscita. Vediamo ora il nostro modellino, sempre nella solita teca, non ci piace molto ma questa, e questa ci danno, adesso lo apriremo purtroppo, devo toglierlo dalla vista. Ed eccolo qui, eccolo qui, bello grande, bello lungo, un bel mezzo comunque, si fa apprezzare, si fa apprezzare per l'allestimento, secondo me anche abbastanza curato, niente di miracoloso, niente di eccezionale. Sul piano inferiore troviamo questi elementi che si muovono, io ho paura di romperli, ma poi ho scoperto che sono elementi mobili, che andavano poi a trattenere le vetture caricate al di sopra. Lo vediamo un attimo in panoramica, ma partiamo con la nostra analisi. Come sempre, dall'anteriore, purtroppo il modello è molto molto lungo e per me è scomodo. Ecco qui, quindi l'anteriore. Cosa ci mostra l'anteriore? L'anteriore è naturalmente dominato da questa calandra, questa griglia nera, bordata da una cornice color alluminio, color cromato, e separata in due poi da ulteriori due listelli. In basso, alla nostra destra, alla sinistra del camion, ritroviamo l'indicazione della versione, quindi 684N. 694N. Naturalmente la carrozzeria a metà altezza è tagliata da questa striscia di colore blu, al di sopra della quale poi è riportata l'indicazione soccorso stradale in caratteri bianchi. Ai lati poi vedremo qualcosa di diverso. Al di sopra ritroviamo il bel parabrezza, bordato da una cornice abbastanza sottile, molto molto realistica, ben fatta, una guarnizione di colore nero, e alla base del parabrezza ritroviamo i tre tergicristalli. Bella sorpresa anche la presenza in decalcomania nel margine inferiore sinistro del parabrezza, a destra per voi che guardate, del portabollo. Si usava prima, oggi non si usa più, quindi qualcuno magari un po' più giovane d'età non stente da riconoscerti, però sono il portabollo e forse il portaassicurazione, sì. Andando verso il basso ritroviamo il bel paurti nero con i fari davvero ben realizzati, l'ottica interna è molto molto ben riprodotta, come vedete anche la classica rigatura dei fari, il piolo di fissaggio centrale che non dà per niente fastidio, anzi, sembra essere proprio la lampadina all'interno del faro. Molto molto belle anche le frecce laterali, realizzate in elementi bicolore, quindi luci di posizione e frecce laterali in plastica trasparente. Davvero molto molto ben fatto. Al di sotto dei fari principali troviamo i fari fendinebbia con copertura marchiata carello, ben fatti, niente di che, forse un po' sottili, ma appaiono sottili solo se visti naturalmente di lato. Al di sotto del paraurti ritroviamo il predellino che probabilmente serviva per poter salire ed essere un po' più alti per l'ordinaria manutenzione dell'automezzo. Passiamo alla vista laterale. Quindi dal punto di vista dell'anteriore davvero davvero un lavoro ben fatto, secondo me. Lato, un attimo che abbasso nuovamente, ecco qua. Lato del camion, cosa possiamo vedere? Vediamo la parte laterale della cabina con la striscia sempre, quella striscia blu che taglia a metà la carrozzeria, sulla quale può essere riportata l'indicazione AC116, soccorso stradale. Per quanto riguarda il lato della carrozzeria non c'è poi tanto da dire. In basso ritroviamo il predellino per l'accesso nell'abitacolo. Le finestrature laterali sono ben fatte e bordate da una sottile cornice o guarnizione di colore nero. Va davvero bene, perché è molto molto sottile e davvero ben fatta. Carini gli specchietti retrovisori in plastica con la superficie riflettente realizzata con un tocco di vernice. Data l'ampiezza forse si sarebbe potuto anche azzardare un qualcosa di più elaborato, tipo una vera superficie riflettente, uno sticker riflettente, ma va bene, va bene. Anche così dai. Altra nota positiva, la freccia laterale, la vedete indicata con la punta del cacciavite, anche in questo caso. Realizzata in plastica arancione trasparente, davvero una bella realizzazione in questo senso. Passa ruota in plastica neri che vanno poi a ospitare il gruppo cerchio ruota, ben realizzato, senza particolari picchi, però ben dimensionato, ben inserito all'interno del passa ruota. Cerchio nero e pneumatico nero. Si passa poi alla vista laterale del vano di carico, quindi questo doppio ponte che andava a ospitare gli automezzi oggetti del soccorso. In questo caso si trattava di un automezzo impiegato soprattutto sulla rete autostradale quando bisognava caricare più mezzi magari coinvolti in un incidente multiplo. sulla traversa superiore l'indicazione dell'autocarrozzeria che aveva a disposizione questo mezzo, l'autocarrozzeria Fratelli Rinaudo, credo che fosse in Sicilia, se non sbaglio. Poi altri elementi come le ringhierine, le scalette per poter salire a livello superiore e il bordo inferiore è impeziosito poi da un'ulteriore banda gialla e una targhetta identificativa che però non riesco a leggere. Si passa poi alla parte posteriore del modello. Devo risolvare un attimo. Ecco qua. Lo vediamo molto molto da vicino ma va bene. Comunque parte posteriore del modello che ci presenta fondamentalmente è composto dal solo paraurti posteriore e dalle parti terminali dei ponti che andavano a ospitare i veicoli. Paraurti posteriore in lama metallica al centro la targa ai lati l'indicazione della velocità massima a pieno carico e la nazionalità del lato mezzo le barre oblique bianche e anche in questo caso dei bellissimi gruppi ottici realizzati in plastica trasparente tricolore la parte più interna è bianca, trasparente la parte centrale rossa la parte laterale arancione per le frecce direzionali in più i bordi più esterni del piano di carico inferiore avevano hanno anzi questi altri elementi luminosi realizzati rotondi realizzati in plastica trasparente rossa davvero molto molto ben realizzati si vedono anche poi i paraschizzi posteriori con ancora una volta l'indicazione dell'autocarazzeria proprietaria dell'automezzo quindi la Rolfo vi ho detto che questi terminali sono mobili si possono abbassare per la parte posteriore mi sembra che non ci sia nulla altro da dire comunque davvero secondo me tutto molto ben fatto anche in questo caso soprattutto la parte relativa alle luci è molto molto ben realizzata in ogni in ogni parte del veicolo la vista laterale destra ci presenta le stesse caratteristiche a differenziarsi è la parte inferiore al piano di carico abbiamo diverse cassette serbatoi per aria compressa o altro e serbatoi benzina e ruota di scorta tutto ciò che manca invece nel lato opposto ritroviamo solo questo contenitore e non so se sia qualcosa per ospitare le batterie non lo so quindi va tutto molto molto bene la vista superiore è praticamente dominata dal piano di carico non ci può vedere nulla la vista inferiore ci consente di vedere un po' di meccanica un bel po' anzi di meccanica perché sembra molto molto ben fatto abbiamo per quanto riguarda la parte anteriore le balestre diversi elementi delle sospensioni la barra di tiro lì o questa barra non so cosa fosse comunque qualcosa di molto ben fatto perché è tutto molto staccato molto tridimensionale quindi mi piace mi piace davvero abbiamo il tubo di scarico che esce lateralmente a fianco alla ruota di scorta un albero motore anche in questo caso staccato tutto il resto ben fatto che va poi a collegarsi al differenziale posteriore alle balestre e altri elementi della sospensione forse un po' sottile ma ci sta ci sta tutto va tutto bene da rimarcare il fatto mi sembra che sia così la parte inferiore del modello tutto ciò che vedete in nero mi sembra che sia in metallo quindi il pianale è in metallo questo conferisce un buon peso al modello e anche una buona rigidità una buona resistenza quindi che dire un mezzo davvero carino mi piace mi convince non so se sia esattamente perfettamente fedele all'originale ma a me piace tanto è fatto molto molto bene soprattutto per quanto riguarda tutti gli elementi luminosi gli interni non ve li faccio vedere un po' perché non ho molta possibilità un po' perché sono tutti completamente neri e quindi ci sarebbe davvero ben poco da vedere all'interno qui vedete come sempre sono ben realizzati pulita la realizzazione di ogni elemento ma non ci sono elementi colorati non ci sono tampografie non c'è nulla che possa mettere in evidenza dettagli dell'interno comunque si vede il posto qui del volante abbastanza orizzontale questo è quindi un modellino secondo me da prendere assolutamente utilissimo per i diorami ma anche un oggetto davvero bello da avere in collezione così come grazie per avermi seguito e arrivederci alle prossime recensioni grazie a tutti